No, perché non sapevo perché non avevi pagato, allora ho detto che gli ho lasciato il mio numero e ho detto d'accordo. Ok, ma ci sarà stata poi una ragione, no? La Chiara stamattina presto, ma queste sono le prime, prima spilze di loro, sì, 19, 9.50 la Chiara stamattina. La Chiara stamattina 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 La Chiara stamattina